Ciao ragazzi, bello che stessi il suo video. Allora ragazzi, questo è un video corto, ma comunque ho deciso di non fare uno short per essere un video corto, perché voglio mostrarvi un fantastico pezzo dell'it che ho preso a me sono un mondo mondo. Vi presento lui. Guardate quanto è bello, guardate quanto è sostanzioso, guardate quanto è perfetto i miei dettagli e soprattutto quanto sta bene con il tappeto e con tutto il contesto del mio nuovo fantastico studio. Era da un po' di tempo che volevo cambiare il mio puffettino, proprio da quando ho cominciato di rifare lo studio, perché appunto quello là sta bene con la coperta, ma non sta più bene ormai con il contesto. E ho visto questo qua, mi sono domando, proprio il giorno stesso in cui comprai le tende tre settimane fa, piri questo e dissi no, lui deve essere mio. E infatti tre settimane dopo l'ho finalmente comprato. Sono sopra contento perché questo qua l'ho comprato con i soldi che ho ricevuto per il compleanno, quindi è stato proprio un regalo che ho messo un po' io, con i soldi che ho ricevuto per il compleanno. E' costato un po', ma ne vale la pena ragazzi. E' costoso, ma ne vale la pena, ma è veramente fantastico. Guardate quanto è bello. E la cosa che bello ragazzi è che è un contenitore. Molto capiente. Qua adesso andrò a ritirarci le mie coperte. E qua sopra mi potrò sedere e appoggiare i miei telecomandoli del telefono quando guardo Netflix la sera. Sono contentissimo di questo autoregalo che mi sono fatto. Perché io trovo che questo, questa base in metallo color dorato, tonato, stia benissimo con questo fantastico puffo in tessuto vellutato nero. Ed è super soffice. Lo amo alla follia. E' troppo bello. Se la trame sotto mondo me lo sarà consiglio. E' veramente, veramente bellissimo. Ed è veramente stupendo. E sta bene in qualsiasi contesto. Veramente. Questa è un'eleganza unica che sta bene in qualsiasi contesto. E un'altra piccola cosa che voglio mostrare ragazzi è il profumello. Il profumello di primo al melone che ho messo all'opera. E guardate quanto sta bene qui. E' proprio buono ragazzi. Dopo di questo mi trovo l'amora. Niente ragazzi che ti devi. Per questo mini video è tutto. Sapete nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo fantastico puffetto. Se vi piace, se vi piace lo stile. Se vi piace come sta nel mio studio. Io personalmente ho lo che sia di eccellenza. E niente. Se vi piace questo video, vi saluto il like. E se vi saluto il video e vi saluto nel prossimo video ragazzi.